Ma lo scopo dell'intelligenza creativa è quello di perpetrare la vita? perché qual è lo scopo che ci sono migliaia di esseri che noi siamo qua c'è perché l'intelligenza creativa ha bisogno di tutti noi l'intelligenza creativa non ha bisogno di nessuno l'intelligenza creativa lo fa per amore solo per amore è un puro e assoluto atto d'amore di condividere la felicità dell'esistere con il numero più alto possibile di esseri quindi è un amore che si perpetua nella gioia di vivere se stesso perché alla fine è sempre solo lui che si diversifica in un numero infinito di esseri ma alla fine è sempre uno solo cioè il santo spirito l'increato creatore tutti siamo uno ma ognuno è consapevole anche di essere se stesso questa è altissima teologia cosmica però è così quindi il santo spirito è l'unico che se un giorno gli gira può cancellare tutta la creazione compreso il padre adonai compreso suo figlio cristo perché anche loro sono stati creati l'unico che non è mai stato creato e che è sempre stato il santo spirito